La cosa più figa che abbia mai visto! È stata una cosa incredibile! Ok, c'è Captain America. Oh, chi è quello nuovo? Bimbo ragno! Devo andare, devo andare! Hai 78 combinazioni spara ragnatele. Ragnatele a granata! Che figata! Credo che con il giusto Mentor saresti una risorsa per la squadra. Andiamo! Conosci anche lui. Gli ho rubato lo scudo. Cosa? Poi mi ha pestato. Ciao!